La seconda puntata è un inizio, sentirete un po' di casino? Vedete a nessuno quella cosa, mi raccomando, quella cosa che ci ha detto, quella persona, quella cosa, quello ricordi che è molto segreta, ah sì, fidati di me, fidati di me, fidati di me, e poi così come faccio a fidarmi di te. Ragazzi. Che fido! Vabbè, poi tu stu, just anche volte, ohààààoo, stigoo! Guardate che ti portano? Sì, lo vedo. Soggetto, soggetto, soggetto. Non so certo. Non si guarda il tuo banco, soprattutto a scuola. È un'offesa per i banchi. Alza, stiamo vedendo l'uomo che sta a testa. Ti racconta una barbellina. No, 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 no. No, 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 no Non gli diamo molto confidenza, non gli diamo molto confidenza, io ho così che sto, si viene in corte, c'è il ditto che si sta per lanciare dal palazzo, muovi, 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 troppo il ditto si è lanciato dal palazzo, scappa, scappa a tutti i detti, e con nessun riuscito sono molto critica, sono molto raccina, questa cosa mi spunto molto, vi chiediamo molte scuse, scusate. Non è molto interessante che veniamo e vediamo il film, non è molto interessante, se voi vedete noi, se noi vogliamo il film, non è vero. E qui poi guardate la televisione, ma il film è Sandella che è la televisione, e qui, forse è il profetto. Io vado giustiche di quello, io ho scelto la puntata sul mosto, giustiche. Forello, stai bene Federico? Secondo me deve dire che è Lorenzo e il suo? Fede, scelto. Lorenzo? Sede di cosciuto. Era un ebreo? Che altre domande fai? Partigiano. Partigiano? 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 Sì, mi sento perdonata. Sì. Buonasera. Prego. Escrivete mio. Sì. Prego. Prego. Sì. Prego. 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 Ciò più di questa cosa. Sì. 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 Facciamo a tempo. Sì. 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 V quitare. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.